Musica Benvenuti ragazzi sono sempre io Yaxit E oggi siamo di nuovo qui su Stronghold Yes, allora Partiamo con la missione 9 Che è quella che ci manca Come al solito sempre una cosa del genere Però storia Adesso non ve l'ho letta quindi ve la spiego Facilissimo abbiamo conquistato il castello del ratto Questo qui E notiamo che Insomma è abbastanza sminchio E tutto il suo impero è tutta questa roba qui Comunque insomma ragazzi allora Ah, stiamo costruendo il fossato Giusto E così dall'inizio Voi iniziate a costruire il fossato E niente Bisogna difendersi dalle orte del ratto Che cercherà ovviamente di riprenderselo Tra l'altro arriverà anche se mi ricordo bene Il maiale Che subentra Nel tentativo di aiutare il ratto Ma non ce la farà Scava fossato Tutto qui Scavate Bene Facciamogli scavare un pochino Perché poi questo Hop Ops Gli ho detto di scavare laggiù Ecco Vedete che parla con il maiale Archie? Non ne ho? Mercato? Sì Z 5-5 Bene Un po' di arcevi Oh Cazzo Dici Entriamo dentro Oh cavolo Non riesco a selezionare tutti sti stupidi Questo stupido Si è messo lì che lo possono colpire No mi ha beccato Guardate Continua a beccarmi Ok Perfetto No 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 Go away from here Intanto li distruggo tutti con Le frecce Ok Ordare spinta Continuate pure a scavare Fai il vostro sporco lavoro Intanto rimangono le piante di mezzo Bene Allora Qui Ri-aggiustiamo Oh cavolo c'è ancora Aggiustiamo il muro E ciò che ci siamo Lo facciamo più spesso Così Perfetto Il muro Spesso È tutto E continuiamo a Prendere arce A questo punto Sono comodi Bene Benissimo Questi stanno scavando Ah si Quella roba La levo Ecco Levata Ok Perfetto Tra l'altro Io sto coso qui Il cancello Vedete che passa sopra il fossato Ma io non ho mai 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 capito Come si fa piazzare Perché di fatto non funziona Comunque Cibo Non ho pensato al cibo Ci serve di sicuro qualcuno che faccia cibo Cacciatori per lo più Vediamo se ci sono animali Ecco Mettere il cacciatore serve una stupidaggine Non ce neanche Ah no Ci sono Ci sono Bravo Vi sapete il traiettore Metto anche una casetta Uh Sac Levati Buono Altri arcieri Grazie Guardate quanti Il nostro esercito di arcieri Sono già La bellezza di Quaranta Quindi insomma Comunque qui già gli attacchi Iniziano a farsi un po' più pesanti Insomma Ci sta Bene Vediamo se possiamo fare Qualcuno che producarci Così non dobbiamo comprare di continuo Che è anche un po' più onesto Tra l'altro Come cosa Possiamo Facciamolo Ah scusa Bene Eh sta partita La stiamo facendo senza usare Il trucco delle risorse infinite Tanto non ci servono Tipo fa il figo Nobile in realtà Non ci serve Buono Guardate è spavito al quadratino Lui è finito Ah forse è andato così grande che non si vede Probabile Bene Tra l'altro vi ricordo che i cacciatori sono molto belli Perché Ogni tanto vi attacca Come anche i falegnami Vi attaccano anche i nemici Quindi Possono diciamo Essere utili Nella difesa Tre archi Tre archi Ah Mi arruolo anche Tutti i lancieri Vieni Mio prove Sono già quanti? 26 Ne faccio ancora 8 Una Due Tre Quattro Cinque 35 Perfetto Bellissimi Qui c'è pure il lord Che se ne va in giro Laura Tazzi Bambino Gioca Adesso mi chiedo sempre se questo gioco sia tradotto In italiano Oppure se invece sia Siamo proprio così i nomi Che fossero proprio in italiani Perché visto che La campagna si svolge nell'Italia Insomma avrebbe il dubbio Guardate un po' qui che La pietra È tantissima E non riescono a portarla via Prendiamo una pastoia Quindi fra un po' si fermano Buono Vinite pure 3 3 38 Buono Eccolo che qui che arriva Ah Non c'ho tasse Va bene 28 su 28 Insomma Solo il cibo è Problematico Ma a questo punto Pensate che in Stronghold 2 I cacciatori non Sono fatti Meglio diciamo Nel senso che Arrivano dei piccioni Del poiane Il cacciatore le abbatte E il cane le raccoglie E le porta al granaio Quindi Se voi fate tanti cacciatori Avrete un esercito di Di cani Che passano davanti al granaio E portano il cibo Che C'ha strastile Se questi schierano tutti qui Così se ci sono delle scale Le butto giù Vabbè che tanto No vabbè Li metto qui E poi faccio una sortita Oh Guarda come mi beccano i cani Che cavolo succede Il mio mouse Stupido mouse No Non ci posso credere Guarda che mano L'ha beccato Ma abbiamo più distrutti Vengo a tranciarli Oh cavolo Mi hanno sterminati Beh Quasi sterminati Ok Vinto Ho fatto fuori tutti Oh cavolo Non ho pensato che qui Potevano esserci dei nemici Sono Undici sono Vabbè Potrebbero bastare In realtà Poi ci sono gli arcieri Potenza Hai morto? Ah ok Bellissimo È già finita la partita Allora ragazzi Non me l'aspettavo Ah boh Insomma Partita finita Non è stata Per niente Difficile Per niente Traumatica La Calabria È nostra No? Sì? Ok Abbiamo la Calabria No ma che Calabria Cosa dico la Puglia Sono completamente fuori Insomma ragazzi Qua avete visto che è spavito il ratto Quindi ci vediamo nel prossimo episodio Dove andremo a conquistare il serpente Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti